Un nuovo presunto caso di mala sanità investe l'ospedale annunziata di Cosenza. Si tratta per ora di un'ipotesi, gli accertamenti e l'inchiesta dovranno ora chiarire quanto è accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Parliamo della morte di Giuseppe Vuono, avvocato molto conosciuto, originario di Reggio Calabria, ma residente a Cosenza, avvenuto il giorno di Natale dello scorso anno. Vuono, tre giorni prima della sua morte, era stato sottoposto a intervento chirurgico. Un intervento è programmato, diviso in due parti, per curare una patologia che affliggeva il paziente. Dopo l'intervento le condizioni sono pian piano peggiorate e, al di là dell'intervento da parte dei medici che hanno somministrato dei farmaci, nel pomeriggio del giorno di Natale, ovvero tre giorni dopo l'intervento, Vuono è stato portato in sala operatoria. In serata però è arrivato il decesso. I familiari hanno sporto denuncia e dal momento sono indagate sei persone, fra medici e paramedici. A breve dovrebbe arrivare inoltre l'esito dell'autopsia.